Allora, se c'è qualcosa che mi piace fare davvero tanto con voi è mettermi in gioco, e soprattutto anche mettermi in gioco. Vedete questo? È in Azumel Even 1. È in Azumel Even 1 e io ho preso una decisione abbastanza macabra, secondo me, perché vi conosco. Siete un po' cattivi, siete un po' malsani, però ho deciso di fare una Nuzlocke interattiva con voi. Quando? Domani, alle quattro e mezza. In live. Perché mi voglio un male dell'anima. Come funzionerà? Praticamente per ogni capitolo disponibile. Ovviamente avremo delle reclute a disposizione, oppure comunque delle eliminazioni a disposizione. Tutto questo, a livello di reclute, eliminazioni, eccetera, dipenderà tutto da voi. Da voi chat, da voi community. Ragazzi, avete un peso enorme per farmi continuare una Nuzlocke. Ma non solo di questo. Non solo di questo. Ma per tutti e sei giochi. Tutti e sei. Quindi, ragazzi, io vi attendo domani alle quattro e mezza per fare la prima Nuzlocke di Nuzlocke. 11 interattiva. Vi aspetto. Non mancate. Perché mi servirà soprattutto il vostro aiuto. Non mancate. 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 Non mancate.